Bene, ciao a tutti, cari amici, bentornati in compagno di VR86, come possiamo vedere abbiamo anche gli accessori che HTC ha presentato per quanto riguarda questo nuovo M8, le nuove cover per appunto andare a personalizzare il nostro nuovo dispositivo. Paolo adesso ci mostrerà qualche accessorio, qualche cover. Ok, avvicino subito questa, che è quella che mi ha colpito di più, forse ho un po' di colori un po' accesa, un po' vivace, un qualcosa di diverso per trasformare un semplice HTC in qualcosa di un pochino. Colori e riprendono anche nuovi di qui. Sì, esatto, sono ripresi proprio dai temi che ha scelto HTC e quindi tutto il set di colori, quindi in base al tema che mettiamo possiamo sposare appieno la cover. La cover che sicuramente è degna di nota ce la può appunto... Questa è la cover interattiva che permette di visualizzare le informazioni principali, come ad esempio la data, eventualmente il meteo, solo appunto schiacciando due volte sulla cover e quindi senza aprirla. Così come sempre dalla cover possono essere visualizzate le notifiche principali, quindi quelle relative alle chiamate perse e i messaggi ancora da visualizzare. Ah, anche il volume mi sembra di aver capito. Quindi posso impostare il volume, poi ci sono altre impostazioni che uno può aggiungere. La cover è magnetica, di conseguenza prendola si accende anche il cellulare, così come spegnendola si spegne. Non richiede un ulteriore dispegno di energia e permette appunto di rispondere alle chiamate semplicemente avvicinando la cover all'orecchio, Così come per chiuderle appunto lo si può sempre fare senza aprirla e basta scorrere lì verso l'orecchio. Bello, molto interessante. I tipi di cover poi sono questi, c'è questo retro un particolare. Sì, alcuni sono anche di altri modelli. Ok, sono tutti cover nuove. Ok. Bene, quindi avete visto... Sì, avete visto anche tutti gli accessori per quanto riguarda il nuovissimo One M8. Cover molto colorati, molto interessanti, soprattutto per che vi abbia mostrato questa bellissima figliola. Un saluto da Svetz86 per quelli che telefonano.it.